Il premio attendibilità 2014 per il cartone animato più preciso va sicuramente non al tulipano nero questo cartone un po' come si dice la Sorbonne, ah si, paraculo, ha sfruttato l'onda di Lady Oscar la voce della protagonista peraltro è pure la stessa, ma forse bisognava porre un filino d'attenzione in più visto quell'errorino che c'è nella sigla Il 4 luglio, e chi lo dice adesso a Tom Cruise che crede di essere nato nel giorno dell'indipendenza americana invece adesso gli dite che è nato il giorno della rivoluzione francese, ma fosse solo questo i fatti raccontati in questo cartone si dipanano attraverso nove lunghi anni, praticamente più di due olimpiadi i personaggi però non cambiano di un centimetro e passi la protagonista, ma il bimbetto d'Anton decenne un minimo di cambiamento lo avrà dovuto pure avere dalla quinta elementare al primo anno di università ma soprattutto se una cosa che è difficile da accettare è il feroce maschilismo della serie insomma, la protagonista, Simone, si veste da matta con tanto ribaschetto impara a tirare di scherma con la stessa rapidità con cui io svuoto un bottiglione da un litro e mezzo di estate record personale 2 minuti e 16 secondi debella il male in ognuno degli episodi, fa tutto da sola insomma, perché alla fine la serie l'hanno chiamata Il Tulipano Nero che è un comprimario, peggio di Shiro in Mila, di Benji in Olli o della nazionale di pallavolo in Mimi vabbè, ma passiamo alla trama questa ragazzetta di 15 anni, Simone Lorraine sì, lo so, il nome assomiglia a uno shampoo anticaduta vive a Parigi e porta avanti assieme ai genitori una fioreria un giorno arriva un tale, il conte de Vaudrel, che le dice cara mia, qualcosa mi dice che è il caso che tu impari a tirare di scherma vabbè, piuttosto che passare il tempo a coltivare margherite ben venga, dice Simone, che in poco tempo diventa Valentina Vezzali rimasta, indovinate un po', esatto, orfana di genitori la poveretta prima viene spedita in un convento esclusivissimo mantenuta da de Vaudrel, poi morto pure questo finirà sotto l'ala protettiva del figlio del conte, Robert di fatto fratellastro di Simone e niente po' po' di meno che il tulipano nero vendicatore mascherato, protettore degli afflitti consolatore degli infermi turris e burnia domus aurea no, questa è un'altra cosa lei lo affianca diventando la stella della Senna di qui sopra ed è quella che alla fine fa il grosso del lavoro impegnata a debellare il male dovuto soprattutto a nobili sbanfoni che fanno vivere il popolo nell'indigenza e vabbè, questo lo sapete come lei di Oscar, o meglio come la storia insegna e non sarebbe una trama innovativa se non ci fosse il colpo di scena lei è in realtà l'unica figlia illegittima di una cantante dell'Opera e di Francesco I, che è il papà di Maria Antonietta in sostanza Simone e Maria Antonietta sono sorelle e quando lei viene a saperlo, ecco che in Francia erano già tutti pronti a fare la festa alla sovrana e al degno consorte e la buona Simone, che ha passato l'anime a sconfiggere i sopprusi si prende l'impegno, e anche il fardello di tirare su i figli della regina assieme al fratellastro Robert e a Danton come detto, quello che rimane enano anche se sono passati dieci anni adorato da molti, a noi questa stella della Senna ha lasciato un po' così ma soprattutto ci chiediamo ancora, amici scrittori di sigle ma vi rendete conto? se dovete parlare della rivoluzione francese almeno la data, bisognerebbe saperla pensate se alla scoperta di Babbo Natale lo avessero ambientato il 15 agosto dai, su! grazie a tutti grazie a tutti